Con un super gold e nuovo acquisto burato, il Jolly Montemurlo riesce a superare il Valdinievole Montecatini, poi Zurli fa il mago e la squadra di Pino Murgia mette in carniere tre punti fondamentali per la propria classifica. Il Jolly è riabilitato. Nell'altro girone di Serie D ancora una sconfitta per lo Scandici. Il Fiorenzola passa per 2-0 al Turri e la squadra di Brachi si interroga sul momento di difficoltà. Serve un cambio di tendenza. In eccellenza, seconda sconfitta consecutiva per l'Aquila Montevarchi. La squadra valdarnese perde in casa da uno strepitoso Grassina che passa di misura. Bencini fa volare il Grassina e Susi fa tremare la traversa, l'essenza del gioco in due flash. Seconda vittoria consecutiva per il Valdarno del nuovo allenatore Giuseppe Forassassi. I Gialli passano anche sul campo della Bucinese. Il rialzo le quotazioni anche del Signa che supera il Sansovino e della Zenit che pareggia sul campo della Castiglionese e prosegue la propria striscia positiva. Pari e patta anche tra Sestese e Lastrigiana. Gol e spettacolo ma finisce in parità. In promozione l'Aglianese è sempre più capolista. La squadra di Stefano Ceri vince in trasferta sul campo di una Vaianese impavida in piena crisi che incappa nella quinta sconfitta consecutiva. Guarisa lancia i Pistoiesi. Pareggio del Marisilio Zobbianese che impatta in casa con il Firenze Ovest mentre il Lanciotto è sempre più bello e passa anche all'ammari di misura. Fiorentini e Campigiani a Braccetto al secondo posto in classifica. Sconfitta casalinga invece per il Calenzano che viene superato da un Castelnuovo Garfagnana in grande forma che comincia davvero a far paura. In prima categoria attenti a quelle due. Il CF 2001 frena sul campo degli amici miei mentre l'odace Galluzzo vince in casa con il Casalguidi e si porta due lunghezze dal vertice. Lo sprint a due per la vittoria finale è lanciato gomito a gomito.